Il tema dell'anziano, della malattia cronica, è parlare di una delle questioni più importanti per il nostro Paese. Per fortuna viviamo a lungo, ma in questo vivere a lungo ci sono tanti problemi da gestire, che se ben gestiti danno qualità alla vita, se gestiti male creano tanti problemi. E nel sistema sanitario, che ha sempre meno risorse, fa più fatica a rispondere ai bisogni, se non viene gestita in maniera efficace questa parte del bisogno di salute, rischiamo di compromettere l'intero sistema. Tanti accessi inutili al pronto soccorso, tanti ricoveri che si prolungano al di là di quello che serve e poca qualità al nostro cittadino paziente. La comunicazione ha un ruolo molto importante. Ci si concentra tanto sulla parte ospedaliera, sulla parte per acuti, la politica, i cittadini, le opinioni, mentre questo è il vero cuore del sistema sanitario. Significa avere cura delle persone, significa avere cura di noi, significa dare un futuro a tutto quello che è il bisogno di salute nella nostra Italia. Confrontare le esperienze, cercare i metodi migliori e come trovare il cammino per arrivare lungo la giusta via. Se poi su questo riuscissimo a dare una spinta comunicativa attraverso Opinion Maker che raccontassero quanto è importante la presa in carico dell'anziano, faremo un servizio migliore. Benvengano occasioni, convegni in realtà che parlano di questo tutto l'anno e spero che sempre più se ne parli nel nostro Paese. Grazie. 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 Grazie.